Allora, mi chiamo Roberto Cofini e ho scelto il romanzo di una scrittrice giordiente, si firma Vittoria A, il titolo del romanzo è Dannati danni. Non è successo assolutamente niente, poteva andare peggio, insieme a ma piantala, non so proprio cos'è da lamentarti, sono i ritornelli che da sempre accompagnano le geste rovinose e l'inevitabile sfacelo di caso danni, già i danni, contrari per principio a ogni legge fisica e gravitazionale, convinti di essere invisibili, volanti e di poter passare attraverso i muri, loro e loro albero genealogico che assomiglia a una pianta carnivora tropicale, pronta a spolparti se per sbaglio ci rimani impigliato. Dove passano i danni non resta più nulla, scompaiono addirittura gli edifici, una famiglia, un nome, un destino, fare danni, a se stessi e agli altri, a persone, animali o cose che abbiano avuto la cattiva idea di incrociare la loro rotta. Ed è al passo di questo leitmotiv martellante, niente di cui preoccuparsi, tutto sotto controllo, che le cose, col passare degli anni, hanno preso la porta nell'apparente distrazione generale. Gli oggetti, in casa nostra, hanno sempre avuto il dono di materializzarsi e smaterializzarsi secondo l'interpretazione del momento, quando erano necessari, erano ancora nostri, anche se qualcuno ce li aveva già spropriati da tempo. Quando invece nessuno li cercava, si pretendeva di non sapere neppure di averli mai posseduti prima, in certi periodi, poco per volte con discrezione, tanto che quasi non ci se ne accorgeva. In altri momenti, senza alcun ritenio in massa, tutto il contenuto della casa ha fatto la sua uscita dalla porta d'ingresso per non rientrare mai più, sgraffignato, pignorato, espropriato o venduto battendo sul tempo i funzionari venuti per il sequestro. Gli arrevi cessavano di esistere da un giorno all'altro e, in quelle circostanze, si doveva semplicemente smettere, senza commentare, di mangiare su un certo tavolo da pranzo, oppure di cercare le lenzuola in un determinato armadio, perché entrambe non c'erano più. In questi casi, dopo un attimo di sorpresa, mista l'assegnazione, si doveva guardare altrove, con aria tediata, pensando, non c'è più l'armadio, ma sì, che oggetto banale. E quando era venuto a mancare qualcosa di grosso, come il pianoforte a coda, stemme e in sens, e il qualche sconsiderato, si era domandato ad alta voce che fine avesse fatto, un sibilo ringhioso, quale pianoforte, pronunciato a denti stretti e labbra rigide, aveva chiuso per sempre la questione. Chi compieva gaff di questo genere si precipitava a porvi rimedio fingendo di essersi sbagliato, vittima di una svista, di una distrazione. Sì, forse, aveva visto un pianoforte, piccolino, vecchio, che era stato lì per qualche tempo, ma chissà poi che fine aveva fatto, in cantina, buttato via, regalato a qualche cuginetto che voleva stripellare, chi se lo ricordava più. L'impronta rimasta sul tappeto era solo un disegno della trama. Se da casa d'anni si poteva far uscire di tutto, senza che nessuno battesse ciglio, c'era tuttavia una sola cosa che non si poteva assolutamente fare entrare mai, per nessun motivo al mondo, la realtà. Bisognava sempre sorridere e dare l'idea di essere non solo felici, ma addirittura beati, di non accordersi che i calorizi erano spenti in dicembre, che non c'erano a casa per lavarsi, che il telefono era regolarmente tagliato, che il più delle volte mancava la luce e, quando c'era, si doveva ringraziare un cavallotto abusivo, e che c'era un creditore, sicuramente un maniaco, che telefonava tutte le ore del giorno e della notte, emettendo rugiti infernali a puro scopo intimidatorio. Ma questo atteggiamento spavato e baldazzoso, purtroppo presenta dei limiti nel lungo periodo. E dai oggi, e dai domani, alla fine, seguendo le stesse modalità dei beni mobili e senza preavviso, è sparita anche la casa, tutta intera. Anche in questa circostanza, però, è stata fondamentale far finta di credere che di lì a poco ce l'avrebbero restituita e che si trattava di un banale equivoco, una cosa da nulla. Mia madre, Anna, doveva continuare a credere di essere la regina di non so dove, che difendeva tutta sola il suo regno dagli attacchi dei nemici e a convincersi che, dopo mille peripezie, inclusa quella di rubare il suo fascicolo dal tribunale, ci sarebbe riuscita. La dipartita della sua regale di mora era stata per lei un fatto imbarazzante e increscioso, naturalmente inspiegabile. Tuttavia, nel giro di pochissimi secondi, lei era già riuscita a spalmare la colpa addosso a tutti quelli che per un verso e per l'altro ne si trovavano intorno. Ciò nonostante, la casa è andata all'asta e Anna è stata buttata fuori senza neanche il tempo di prendere le sue cose e senza avere altro posto dove andare che un albergo a ore dietro al cimitero monumentale, dove le prostitute giravano nude per i corridoi. Non l'ha presa poi così male. Già da un paio di sere aveva fatto nuove amicizie con cui giocare a carte e, vestita come una quindicenne, aveva ripreso a pieno ritmo la sua vita mondana e notturna. Naturalmente, anche del suo stile di vita dava la colpa a noi, dicendo che, se l'avessimo fatta più compagnia, lei non avrebbe avuto bisogno di uscire tutte le sere per non star sola, combinato in quel modo per di più. Questa legge della materializzazione e smaterializzazione, oltre che alle cose, si applicava anche alle persone, le quali a un certo punto non c'erano più. Però non si era mai certi, fino in fondo, se poi fossero morte davvero. Semplicemente, non si sapeva dove fossero andate a finire, ma si continuava a parlare nel presente, nel dubbio che un giorno o l'altro, magari, potessero ricomparire. Grazie.